Buonasera, apriamo questa puntata di Oltre il Sipario con il grande appuntamento con la musica d'autore in programma domani, giovedì 24 marzo, al Palasport di Rovereto. È in caledario il concerto del trio acustico di Gilberto Gil, si tratta di una delle quattro dati italiane del tour europeo di questo grande interprete della musica brasiliana. Con lui saranno interpreti di un raffinato string concert il violoncellista Jacques Morel e alla chitarra e percussioni il figlio di Gilberto Gil, si inizia alle ore 21. E dal sound tropicalista di Gilberto Gil, sapiente mix di rock, reggae e folk brasiliano, passiamo alla musica operistica e andiamo a conoscere un autore trentino di fine 800, Marco Anzoletti. Il progetto si denomina primo palcoscenico e coinvolge diversi soggetti impegnati nella produzione di un nuovo allestimento in prima esecuzione contemporanea dell'opera La fine di Mozart, composta nel 1898 dal trentino Marco Anzoletti. Inserito nel programma di formazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il progetto vede in prima fila il Conservatorio Bonporti, che ha affidato a tre suoi insegnanti il coordinamento delle aree fondamentali di intervento. Mattia Nicolini cura la preparazione della compagnia di canto, Julian Lombana è il direttore d'orchestra, Augusto Fagioli il regista. Sono inoltre partner dell'allestimento l'Istituto delle Arti di Trento e Rovereto per la scenografia e la grafica, il Centro Moda Canossa per i Costumi, l'Istituto di Formazione Professionale Alessandro Pertini per Trucco e Parrucco. Ritroviamo dentro quest'opera i tratti tipici del linguaggio di Anzoletti, che hanno a che fare appunto con la fine dell'Ottocento e il linguaggio soprattutto di cultura, diciamo di richiamo tedesco, infiltra questo suo linguaggio con citazioni che vengono riprese e da Mozart, anche da Beethoven. Lo spettacolo sarà in scena sabato 26 marzo al Teatro Sociale, il sipario si alzerà alle 20 e 30. Proseguo la rassegna itinerari jazz a Trento, sabato 27 all'auditorio, mi programma il concerto di Franco Ambrosetti. Franco Ambrosetti con il suo sestetto in cui porta come proposta musicale nuova la grande pianista americana Jerry Allen. Questa formazione di caratteristica mista europea-americana ha al suo interno una grande possibilità, è quella di far vedere, dimostrare come il jazz in Europa sia riuscito in qualche modo a staccarsi dai prototipi americani e avere una propria autonomia. Ancora un paio di servizi, parliamo di danza e di una produzione del Centro Santa Chiara che porta alla ribalta teatrale il linguaggio poetico. Se c'è un artista che nella danza definisce il nostro decennio, questo è Wayne McGregor. A due anni di distanza dalla presentazione di Entity, il coreografo britannico torna al sociale con la sua Random Dance Company per l'ultimo atto della stagione in danza 2010-2011 organizzata dal Centro Santa Chiara. Si intitola Far, il nuovo lavoro che ha debuttato nel novembre scorso al Sadler's Wells di Londra, il teatro dove la compagnia è in residenza e sta ora affrontando una lunga tournée internazionale. Spregiudicato ed eclettico Wayne McGregor che ha creato lavori per le più prestigiose compagnie del mondo, dal New York City Ballet allo Stuttgart Ballet, dal Royal Ballet di Londra alla Scala di Milano e ha inoltre coreografato il quarto episodio della saga cinematografica di Harry Potter, si fa coadiuvare per questo nuovo progetto dalla superstar australiana dell'elettronica Ben Frost e dal collettivo Random International per le installazioni visive. Possono esserci prospettive diverse dalle quali guardare ad un progetto di teatro del territorio, portare in scena fatti e personaggi per ricostruire pagine di storia locale oppure affrontare temi di carattere universale utilizzando le intelligenze e le sensibilità che un territorio sa esprimere. È questa la strada che ha portato il Centro Servizi Culturali Santa Chiara a produrre in collaborazione con l'associazione Strada Nova e la compagnia Danza Viva lo spettacolo Mito e Amore che sarà in scena al Teatro Cuminetti dal 29 al 31 marzo. Tematiche universali quali l'amore, la spiritualità e la bellezza troveranno un'espressione alta nel testo poetico di David Wilkinson, scrittore inglese che ormai da tempo vive in Tarentino. Il tema centrale è un rifiuto del mondo moderno con la sua plastica come lo chiamo nell'opera e un voglio di ritornare ai valori classici, la filosofia, il modo di fare la morale greca-romana non snobbando poi le conquiste che abbiamo fatto negli ultimi 2000 anni sotto la Chiesa. Tutto questo siamo riusciti a realizzarlo attraverso un clima che potrebbe far pensare per certi versi a una sorta di teatro dell'assurdo in cui il grottesco e il drammatico si mescolano insieme e per rendere tutto questo ci siamo affidati a una squadra molto compatta, molto unita che unisce insieme tantissime arti diverse come la danza, la recitazione, la musica e l'immagine e naturalmente anche il disegno luci che sarà senz'altro protagonista. Al di là di questa complessità, il testo di David Wilkinson è invece apparentemente semplice da riassumere non è altro che la crisi di un poeta in un mondo che non riconosce come suo apparentemente violento, dove la bellezza e la spiritualità non hanno più spazio il testo rappresenta questo passaggio, questo attraversamento di questa crisi dallo sprofondamento nella crisi più nera all'approdo, al ritrovamento dell'arte e della spiritualità. La coppia Galvani-Laurino, che ha curato l'allestimento, dà spazio alle diverse espressioni dell'arte teatrale affidandole alle capacità attoriali di Valeria Ciangottini, affiancata da alcuni fra i migliori protagonisti della scena trentina. L'attore e poeta Rivano Franco Farina, la coreografa Maria Grazia Torbole e la ballerina Francesca Laghi, che danzerà in coppia con Valerio Moro. Le musiche originali sono state composte da Renato Chiesa e registrate dall'ensemble Zandonai diretto da Giancarlo Guarino. Scene e costumi sono di Romeo Liccardo, fotografie e animazioni di Camilla De Maffeis. Il disegno delle luci è curato da William Trentini. Ed è tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci a teatro. Grazie a tutti.